Marco Lentini della Ippon Carata Lentini di Sciacca, Ribera, insomma opera sul territorio, i prossimi due appuntamenti più importanti sono a settembre ad Olbia per i campionati del Mediterraneo ma poi soprattutto i mondiali d'ottobre con le vostre atlete di punta, come vi state preparando? Ci stiamo allenando, continuando a mantenere l'alta intensità del lavoro e mandando spesso e volentieri i ragazzi a idratarsi, a fine mese saremo al centro olimpico di Ostia per il secondo raduno in via del Mediterraneo e del Mondiale, stiamo preparando con i ragazzi, chiameremo i primi tre del ranking, io sarò convocato anche lì come tecnico della nazionale per cercare di tenere alto il ritmo e la preparazione atletica degli atleti. Chiaramente puntate alle medaglie? Ovviamente sì, ci teniamo particolarmente perché innanzitutto il Mediterraneo si svolgerà in Italia a Olbia ed è a settembre, mentre il Mondiale per la prima volta nella storia viene organizzato in Italia a Iesolo, e la FIRCAM, la federazione con il presidente Davide Benetello e insieme a tutto lo staff tecnico della nazionale ci teniamo a fare veramente bene, visto che non capita tutti i giorni di poter organizzare un evento in Italia. Le vostre atlete Immacolletti, Irene e Irene Marturano, ormai in pianta stabile fanno parte del Giro Azzurro? Irene è confermata per il Mondiale e anche per il Mediterraneo, essendo che praticamente prima nel ranking ha 3 mila punti dalla seconda, quindi non riesce a raggiungere il 15% per essere comunque valutabile nella scelta, quindi non ha nessuna concorrente. Emma invece con l'ultima medaglia fatta a Porec, dove ha rosicchiato circa 1500 punti e è riuscita a raggiungere non il 15% ma il 10%, quindi ancora di più la prima in classifica, quindi è valutabile e si giocano tutti nella scelta e nei prossimi raduni. A settembre per i campionati del Mediterraneo, ma soprattutto all'ottobre per i mondiali, ovviamente il livello competitivo e di confronto sarà molto alto? Diciamo sì che le aspettative sono alte, il Mediterraneo principalmente lo faranno tutte le nazioni che si affacciano nel Mediterraneo, parliamo di nazioni importanti a livello mondiale che fanno grandi risultati come la Francia, la Grecia, l'Egitto, il Marocco, l'Italia e la Spagna, quindi nazioni diciamo quotate e ci teniamo particolarmente di far veramente bene perché stiamo preparando al massimo i ragazzi e ci teniamo particolarmente. Un'ultima cosa, le motivazioni ovviamente sono alte, tant'è vero che i vostri atleti anche in questo periodo di agosto continuano ad allenarsi anche con le alte temperature. La motivazione è alta, i sacrifici sono enormi, i ragazzi potrebbero stare in giro a divertirsi come tutti i loro coetani, e invece diciamo che avendo un obiettivo nella vita che possa essere di tipo sportivo o con delle ambizioni, ovviamente fanno delle rinunce per far sì che si allenano o si fanno trovare pronti nell'eventuale manifestazione importante. Bisogna dare un elogio a questi ragazzi giovanissimi che comunque hanno degli obiettivi nella vita, che non è semplicemente solo stare in giro a girovagare senza fare nulla di concreto.